Oggi da GECA scopriamo la quinta generazione di Kia Sportage. Le nuove linee conferiscono eleganza, compattezza e sportività. Anche gli spazi interni sono degni di una miraglia. Un baule da 530 litri, ampio spazio nella seduta posteriore, sedili elettrici a multiregolazione, ergonomia di guida da auto sportiva, cruscotto digitale con funzione drive mode. Il display touchscreen da 12 pollici e 50 ti permetterà di selezionare ogni opzione in assoluta sicurezza durante la guida e grazie alla funzione due terzi un terzo potrai tenere sotto controllo tutte le informazioni dell'autovettura. Su tutte le versioni sono disponibili la telecamera di retromarcia, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, mentre sulla versione GT Line addirittura abbiamo una visione a 360 gradi. Non possono mancare le rifiniture pregiate. Come avrete capito la nuova Sportage è ricca di dotazioni già di serie e per i più esigenti Kia offre la realtà aumentata e Remote Park Assist che vi permetterà di parcheggiare la vostra macchina con un semplice click. È disponibile in quattro motorizzazioni, due mild hybrid di cui una gasolio e una benzina e due full hybrid di cui uno plug-in. L'allestimento plug-in garantisce addirittura oltre 60 km di percorrenza con una ricarica a una velocità massima di 110 km orari. Potrete provare il nuovo Sportage presso le concessionarie J-Car del gruppo G a Genova e a Savona.